e puntuali come tutti i lunedì ci siamo trasferiti nell'angolo della cucina e diamo un benvenuto al nostro guocomatto Giorgio ciao caro ciao Serena e allora oggi come promesso un secondo piatto la settimana scorsa abbiamo assaggiato i tagliolini e oggi abbiamo un filetto di maiale alle mele rosse e allora che dire una ricetta estiva ma volendo si può riproporre anche quando c'è più fresco si è anche molto semplice cioè è una ricetta semplice all'ultimo minuto se vi vengono ospiti noi nessun problema perché sarà anche un brodo particolare per fare questa ricetta e allora attenzione che diciamo subito gli ingredienti serve un filetto di maiale circa 500 grammi serve dell'aglio della farina una mela rossa olio pepe una crema di aceto di mele e il brodo vegetale il prezzo è circa 10 euro 20 per 4 persone diciamo subito Giorgio questo brodo vegetale come l'hai fatto allora il brodo vegetale c'è carota sedano cipolla un pizzico di sale e poi abbiamo messo dentro la cannella in stecca chiodi di garofano e un bicchiere di vino nero sarebbe un brodo uso brulè però è dolce e salato che va a fine cottura per finire la cottura dei medaglioni qua di filette di maiale va bene che è un'estate un po fresca però insomma il brulè è ancora un po' presto a assaggiare vede allora partiamo subito con il procedimento abbiamo messo nella nostra padella antiaderente un po di olio e l'aglio abbiamo impanato i nostri medaglioni con la farina e li abbiamo adagiati in padella per quanti minuti Giorgio a dieci minuti quando non sapete che è bene rosso e le ora da buttare dentro le mele insomma a proposito di mele prendiamo le nostre mele tagliate precedentemente a pezzettini le nostre mele rosse ricordiamo e le adagiamo appunto in padella lasciamo cuocere il tutto quando è pronto aggiungiamo il nostro brodo vegetale lasciamo ancora in cottura qualche minuto fino che assorbe tutto sì fino che evapori profumo lì del vino e dopo è pronto e alla fine fai una decorazione con la crema di aceto di mele direi un piatto profumato e soprattutto prelibato e allora anche voi cimentatevi con la cucina del cuoco matto ci vediamo lunedì ciao Giorgio ciao a tutti dal vostro cuoco matto ciao